Ciao ragazzi Ciao E benvenuti John Sinazzi Non si sa perchè ma oggi facciamo una gangame del John Sinna Che non è per niente John Sinosa Ma se c'è scritto di John Sinna è di John Sinna Ah l'ha creata proprio John Sin Perché è cinese Beh anche se c'è cinese C'è cinza Non è uno sponsor Però volevano Siamo sponsorizzati Però volevo dire che pareva che ci va a sponsorizzare 14 visualizzazioni Che nel 2023 Che nel 2023 Che nel 2023 Non si sia la data precisa Uscirà un giorno che si chiama I am Gesù Cristo Ah Cristo Cioè Ah Io sono Gesù Cristian Esatto Ah ma è il mio nuovo gioco Si Ok Sponsorizziamolo Anche se non l'ho sponsorizzato Perché nessuno c'erano Sponsorizzare Quindi ragazzi per andare a te I am Gesù Cristian Ah Gesù Cristian Vai allora Io sono John Sinna ragazzi No tu sei John Sinna Io sono John Puntala cina Vien Ah Ah Ti viene un'incenso La diarrea La diarrea La diarrea Come va con il vaiolo Ma va Volevole I charging Ma porca Vedere con un pezzo di merda Volevole come colpo ancora di merda ma porco ma è solo formata la pompa questa donna se ti trovo esco fuori la mia glock tu sei morto sei stato crocifitto c'è quel pompa più potente della mia pistola da lontano e che certo ma cosa fra io sono dentro il gianzino invadono sono dentro il giugno 132 ma non ci credo di avere il pugno duro adesso riampila di sabbia figata no 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 ha voluto fare il pugno duro moglie scolo zoccolo duro davia scoglietta e riva adesso ma non c'è mai lo zoccolo duro no no fai decidere da arturo no fai letto il cazzo io sono una revolver mannaggiala dai che mi fanno di fare una chi ma vediamo morito io sono ancora la seconda ma solo perché finito un pezzo di merda c'è pure da fermo non mi prendi ma non ci credo ma che ho paura che migliori colpire muore il bimbo verda aia il bimbo verda ma ammazza il bimbo verda aia aia madonna dai mi è abbattuto a vedere topolino topolino mi apre adesso topolino mi vuole tutto ma in un colpo topolino mi vuole non amolo non ci credo chi è che devo fargli un disco scattusca mi ha chiesto no mi chieda dietro si godo no come un riccio godo morto uno no bravo chi è che sento qua sento un topolino topolino si come ho fatto no freda però mi ha rotto il cazzo mi ha fatto completamente a fortuna no 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 la faccio la vita faccio la vita faccio la vita ma io ho fatto giocini già si da via bre tutto io vi voglio io ho fatto la fai a me da amico non amica sto ricaricando storica io ho visto io non so come devo fare spari anche che ho uno schifo di arma no no ma se c'hai un'arma o pt ti metti un dito nel cuo mo chiamo mimmo di scatlusca da massi che per potenti siete roti lo so io sono rossissimo go 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 ti faccio un go 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 come che fa coessi ma non ci ma sei bastardo lo so federico è un ultra fast ne sono consapevo ammazziamolo è qua dietro fuori ma dai con la pistola ma fatevi fare una kill ma anche a me oh no sento un tisca tusca eh abbiamo un problema aiuto c'è un tisca tusca oh ma non ti prende no c'è chiacchia poi ai piedi mi hai piedi no come ai piedi ai piedi no tutto ma non i miei piedi muori non mi toccare i miei piedi no io mo li tocco no vi prego fatevi una vita io mi faccio la vita no no non ti farò una vita ah la sei cari ma schifo la sei tolta no eh sì vabbè ma è fortissima sto no che ammazzami che mi ammazzia benedito ma ma è schifo che diavolo è schifo no ma c'è la madonna ti entro sta arrivando il cioncino dai cos'è il fucile attiratore scena ti prego fatti da vita eh sì vabbè mi ha aperto male mio ammazzia no mo c'è il caccia no nut nut no 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 aspetta devo raffreddare la fredda Michele si lo so io ci sono l'arte e perché io non posso entromettere a tutti la mappa di johnson è migliore del mondo si facciamo un altro video e fra io tra poco devo andare facciamo un qualche round facciamo tra yarding e senza intro ma chi si intramette un faccio di eba no adesso pure l'indirizzo fiscale a e volevi intromettere non fai sopravvivere non so perché mi ha fatto ridere di gli anche l'indirizzo fiscale ma va bene basta mi sono sfogato ora vi faccio una vita e che mi sento ma una potenza cristian vieni qua ma cosa che fuga fuga ma non è la mia non è calma se staremo le foto boschi ce fa quanto danno fa e io entro a 66 da raga però che hai rotto il cammini che non è colpa mi aiuti ma la mia pistola fa tre di danno e ci mette l'era preistorica per sparare il secondo colpo eh si vabbè cammini no raga veramente aiutatemi a salvatare muori male devi morire malissimo sotto dei motoseghi che fanno un brrr raga io ho fatto una kill no ma cosa una revolver che batte un pompa no ma cos cocco no federico ti morisse la mano addio addio ti morire cocco dove il rabbio ma non tira ma cosa E si che calma non attacca quest'arma di merda Dove siete? Damaso la mamma Ti uccido Ti uccido se in questo mondo sei in alto Muori Allora però io c'ho un pompa che fa cacare Muori Muori Sei il cagnolone Mangia il dolcino abbenenato La marotta La marotta Oh si Muo farò la tecnica giocina No 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 Non mi rivedo nel porca No no Federico è un porca porca Federico si No Federico adesso mi rivediamo una mano a lei Ok Perché ho sentito Perché sento dei po Ma dove No Federico No mi che è venuto lui da me Ok allora va bene No vabbè 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 Mannaggia ad Arturo E Mimmo Arturo e Mimmo Insieme No non mi farà Ma ho una di vita Spara a tutti quelli che vedo Fuori Spara a tutti quelli che vedo Eh sì vabbè Arturo e Mimmo Arturo e Mimmo Ma sono diverse le armi a bagno Eh sì ma noi sì Ah no perché io avevo fatto double kill e quindi non mi ha tornato in No 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 C'è una mitra che è una No 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 Ma come ho fatto non morire No 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 Sì da raga ma per me non mi fate fare manco una kill Ma sono sei La porca la tronca La porca la porchetta La porchetta avevi due di vita Avevi due di vita Mannaggia la porchetta Mi svolta Mi dico a Cristian e Federico magari si metta una mano No Ho sentito Anch'io Perché sento una mitra molto forte Non ci credo che forse Buongiorno 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 Dai Voglio finire la Ci vabbè a 22 Sai già Ma questa è la mia Ma questa è la mia Cristian alleanza contro Federico No fate in realtà la mano da quando sia 150 di vita grande credo di alleanza dai ragazzino vincere crisi e muori vincere tu non vuoi che rimanzi se un pezzo di erba dove da raga però io ho una mitra schifosa la freccia a destra la faccia mi ha seguito ha iniziato a parlare e la ricerca la freccia è un nuovo tipo di palestre a rimanino il blu ha fatto da di proiettile verso destra e non verso sinistra è stata una brutta persona che vanno devi e morire veramente che è un ragazzo molto illegale federico è illegale in tutto il mondo credo avere federico di far fare una kill ragazzi si vabbè ma anche sarà dopo un bimbo merda rampe nooo porta una moto vengo a fare la mia rampage ti vengo allora facciamo parlarne eh sì vabbè io ho due di vita però mannaggia la mannaggia e riso ho visto un gattino piccolino e gli ho aperto è in descubrino gattinio se detta allora qui stanno seguendo i Nich II Allah ti venisse una malattia termina ma sono bloccati al cancro fai affare le cose belle non ne avevo tre ma non si è fatta ma dai che ho fatto 19 ma johnsina vi piacciono che fortuna c'è la crisi andrà dietro ma non si capisce una ciotola la maronna chi è che ha l'asmo esci si fuori non voglio mai credere salvati con bastardo si va abbiamo aperto male vai stai guardando non partono i danni ma non parte Federico ma non si prende una cioca è nella sua rampage cioè ha fatto godlike ragazzi voi potete capire che no no grazie no no ti muori grazie grazie no Michele tu dici di me tu smetti di intromettere di rompere il cazzo eh ma tu non lo fai tu non lo smetti ma perché tu no smetti ma perché si sto fucile chi l'ha programmato eh si mannaggia chi l'ho creato deve esplodere fuori male chi ha creato sto fucile voglio sapere con il mirino che zoom a 30 per vero ti ho ucciso eh però sei morto vero ti ho ucciso ma vai a fare le cose le cose no no era segno automatico non era segno automatico no era segno automatico no era segno automatico eh si va beh le cose le cose che ti fa sempre Federico ho 70 kill ho tanto ho tanto no ma con il dmr molti devo avanzare da vicino ragazzi ma mi potete fare muori male ragazzi no no fraccia non fraccia non fraccia non fatti scappa scappa ah c'ha la pistola il signore non vuole rispostare no no c'è morto cristian aggirimi cristian ma come hai fatto ma c'ha la pistola ma c'ha la pistola rossa ma dove ma va no ma la tangula c'ha la pistola ragazzi ma perché a me mi scoglia io sono una cosa vedi me scappo che sia un'alleanza io non ho mai aiutami po' te bella sta alleanza fraccia la pistola che ti prende al 100% e lo so no perché non avevi ancora accettato l'alleanza aiuto accetti l'alleanza sta nella rampage quello ma 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 già gli ottimi naso federico rizzi è il tuo bel cognome patente al libretto ma è federico ma è federico ma è federico ma è federico rizzi è il tuo cibo veloce che devemo terminare il video razzifoso dai tre anni e mezzo per il carico vedeco che un bgf fanno di razzifoso e vabbè no no è mafia è un tra mafioso è mafia c'è godo ho l'arma più OP dal gioco e niente ma come hai fatto e quindi ragazzi se non vi è piaciuto il video io godo lasciate un commento toxic disiscrivetevi se lasciate un dislike se lasciate un like a federico verrà tirato un pugno se lasciate un like un pugno a federico se vi iscrivete un calcio però e se lo condividete se condividete lo spariamo e se commentate gli tiriamo una pomperata in testa ma se ma se fate tutte e quattro le cose non ci viene torturato male viene tu uccidato lo mettiamo sulla sedia elettrica ah yes allo stesso tempo la ghigliottina che dopo aver fatto lo tagliamo in due e quindi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi per il biscotto ciao ragazzi